allora buongiorno a tutti 27 luglio 2023 e vediamo un attimo come siamo messi oggi e diamo alcune occhiatina di quello che è successo ieri visto che c'era questo appuntamento della fed allora la realtà le credenze compaiono sempre in gruppi si sediano sediano sempre sistemi di credenze mai compaiono isolatamente thomas greener ieri c'è stato un bel gruppetto che credeva qualcosa chiaramente ma un po analizzata la storia perché c'è da capire cos'è successo ieri perché lui ieri tutto il giorno ha preparato come fa sovente non è successo niente di straordinario ha preparato il lavoro l'ha preparato durante il giorno e ha utilizzato tutta una serie di soggetti e perché ieri è stato il giorno delle opinioni allora vediamo un attimo quale è stato il passo delle sp500 ieri in pre fed il passo uno che loro hanno fatto è stato quello di utilizzare tutta la giornata costruendo ordini nella fascia alta attraverso una lenta discesa scalini ricordiamo che ne corse che abbiamo fatto da andare a individuare quando inizio a fare cosa scalini se andate a rivedere sulle slide che utilizzando gli stop loss e dei tentativi di anticipazione long questi sono tutti tentativi di anticipazione long e relativi stop loss su cui lui ha costruito piano piano la discesa finanziata dai tentativi longers fino alle otto praticamente sette e mezzo di ieri sera cosa cosa aveva come ordini per poter fare aveva questa linea che aveva fatto gli ordini costruiti precedentemente ha innescato il tutto con 123 e ha iniziato un prende finché questo trend non viene negato questa cosa lui l'ha portato avanti senza andare però a prendere questo minimo qua che sarà importante lui ha creato una 3d range tanti hanno cercato di entrare long in questa 3d range ma anche sul dax non hanno capito che eravamo 3d range e lui l'ha usata ecco ha fatto una bella prima uscita un bel test dove tanti long hanno tentato di entrare un altro secondo uscita pulito successivamente è regolare anche se lo vediamo tutti i giorni successivamente cosa fa successivamente poi ha utilizzato gli stop loss degli short e gli ingressi long e con i volumi per vendere posizione con il dato e la conferenza sta questo è la prima mandata tutti questi ordini qua li ha fatti fuori non segna praticamente ci sarebbe un treno ma non è il nostro nostro mondo questa è la prima mandata degli ordini ok poi dopo cosa ha fatto ha preso l'ultimo ordine sopra che dal suo obiettivo scarica di volumi impressionante e ha tirato giù cosa è andata a prendere è andata a prendere quel famoso ordine che prima aveva lasciato invariato quindi stoppati tutti quelli che erano short sul massimo stoppati tutti quelli che erano dove long sul minimo dopo ha iniziato a lavorare per noi come con uno due tre e con un uccino di ross questo è il trade io ho fatto questo cosa ha fatto non ha raggiunto il massimo assoluto ho usato le trimestrali per far entrare altri short stanotte lo so perché li ho visti non riuscire è notata li ha scoppati cosa ci siamo detti ieri ci siamo detti ok finita la tempesta ora vediamo cosa costruisce perché adesso inizia a fare il muratore e inizia a costruire cose e infatti sta iniziando a costruire un altro processo addirittura sta iniziando a piantare dei cluster come del resto ci aveva comunicato precedentemente vedete questo uno due tre che va a prendere il cluster prima ok e poi lo usa per attraversarlo e fare gli altri ordini perché non è andato a fare subito questi ordini che con questo cluster prima perché ragazzi gregge qua qua non c'è perché devono buttare via soldi loro come si è detto ieri non useranno i loro soldi useranno quelli delle pecorelle nel ricino cosa è avvenuto è avvenuto la stessa cosa che avviene tutti i giorni né più né meno nulla di straordinario nulla nessun nessun cambiamento su quella che è la loro agenda quotidiana è andata a prendere gli ordini come tutti i giorni ogni due giorni a seconda dei tempi che si dà l'unica differenza è che ieri il fatto che il retele si è recintato in un momento preciso della giornata invece che fare quello che fa gli altri giorni di andare in maniera frazionata a perdere soldi ha deciso di perderli dalle otto alle otto e mezzo lo ha fatto solo più velocemente cioè tutta questa sparata qua se andiamo a vedere il passato ogni tanto per lo stesso movimento che solo per il passato è frazionato in più in più tempo per il semplice fatto che lo fa più lentamente perché i gamblers i giocatori d'azzardo durante una normale giornata di borsa si presentano all'apertura e poi perdono soldi durante tutta la giornata a rincorrere mediare queste cose qua quando c'è un dato si danno proprio l'appuntamento praticamente lui riesce ad avere più ordini più raggruppati e quindi si creano candele più veloci ma all'atto pratico fa la stessa identica cosa che fa sempre la pagliacciata del tasso e della conferenza stampa sono solo propedeutici per accelerare il discorso qual è il vantaggio per le mani forti per cui loro fanno regolarmente queste agliacciate queste rappresentazioni pubblicitarie del tasso e non tasso cioè lo sappiamo dal 2021 che i tassi li aumentano così non è nemmeno necessario che si presenti e che facciano una conferenza stampa che diventa la supercazzola con la brutta notizia all'inizio e la buona notizia alla fine perché lo fanno? perché è un'occasione per vendere in massa contratti come è successo ieri sera invece di vendere frazionatamente ci butto dentro sui massimi una bella quantità notevole quantità e non è la fine del processo è una parte del processo potrebbe essere molto lungo però ieri sera sul massimo loro hanno tirato giù una catena e poi hanno staccato e ha rifatto fare il mercato quello che devo fare da solo perché queste qui sono tutta gente che è entrata a short, libra e serena perché se aumenta le tasse dello 0,25 bisogna andare short se non le aumenta bisogna andare long ok più che altro è come fare la pipi contro venti ha lo stesso risultato cosa dobbiamo fare noi di fronte a questa situazione qui? l'unica verità è che è un mercato quindi cosa fanno? io apro un negozietto se c'è 40 gradi all'ombra avendo più gelati se è freddo meno iniziare ad osservare lontano dai rumori e dalle teorie pensare come loro e seguirli osservando tra l'altro loro parlano parlano, parlano, parlano cavolo se parlano tutto il giorno è tutto il giorno che è andato tutta una serie di informazioni hanno detto guarda siamo qui sta fermo non è ancora il momento perché non vogliamo soldi veri arrivano qua sta fermo qua perché faccio una prima sparata si è andata a vedere il passato questa cosa di partire dal prezzo del dato che può ritornare sul prezzo del dato lo ha fatto sempre sempre e poi dopo costruisce sempre perché il suo obiettivo non era notizia io penso che non lo hanno nemmeno guardato come del resto abbiamo fatto noi se era più 0,25 meno 0,25 cosa diceva Paolo ma no loro hanno solamente speso dove sono i soldi fine prima sopra e poi sotto più velocemente di quando succede normalmente e c'è uno ieri che normalmente l'ha fatto in maniera flemma flemma come pensavamo che si chiama Eurodollaro Eurodollaro mi ha detto ieri mattina vedrete che verso la mattinata inizieranno a entrare shock cos'è che ci dà questa garanzia che succede così gli ordini osservare anche che oggi riparto un altro cinema sulla sulla BC che conta meno di me sul mercato mondiale però la considereranno una cosa una cosa dove loro che la gente normale pensa che invece stanno decidendo cosa fare allora come mai questo mi sale mentre dovrebbe essere sciogli ragazzi ma a loro piace i soldi mica le teorie a loro piace di stop loss di questi che mesi che si aspettano che il dollaro faccia disastri e lui si è andato a prendere nel momento che finiti gli ordini perché sono distanti perché sono distanti se fermate punto punto vuole anche queste prima o poi guarda come le ha belle elencate devi generare delle opinioni un'opinione frequente sarà da oggi che con il scolamento dei tasse il dollaro è per forza non ci piove non ci piove io è 30 anni che sento di questa minchiata se fosse vera questa minchiata il dollaro sarebbe stinto negli anni 80 o nel 2008 e quindi lui cosa costruisce e lui ti dice guarda io onestamente sono d'accordo con te che l'economia del bignano mi dice che il dollaro è long quando i tassi sono alti però mi piacerebbe a me invece fa un po' di soldi invece di spalacazzato il giorno e mattina e si inizia a fare tutta una serie di cosette su cui lui realizza preghi e venge situazioni e ti dice che lo short è qua non è preferito lo sarà perché qui fa degli altri ordini ma ieri c'erano questi perché ero così sicuro che entravano short a Piedi Uniti ieri perché il dollaro non può essere long con la fed incrementa tassi inevitabile loro veramente questa è la realtà che sarebbe facilissimo capire che una balla statossferica se si guardasse cinque minuti in passato però ragazzi guarda il passato oltre le dieci candele che vedo su uno schermo di un telefonino di un computer è difficile cosa ci possiamo aspettare qua qua il problemino è che lui è a poca voglia di iniziare adesso il big il big short euro dollaro che probabilmente qua anche con lo spuffettino con la bici magari potrebbe poi trovare la carica per andarsi a prendere questi qua su perché questi qua su sono belli e appetibili ce lo siamo detti mille volte qua su c'è sicuramente ecco vedete questi gli ordini era lontani lui ci è arrivato vicino ci sta che questa fascia qui la voglio usare per comprare oppure fare il contrario come ha fatto l'SP ieri partire decisamente long in tutta la mattinata fare lo spuff long quassù stoppare che è entrato short il suo euro dollaro pensando che finalmente ci siamo e poi fare quello che ha fatto ieri l'SP è andato short senza di short e poi è andato long senza long perché quelle che hanno comunque vantato un piccolo guadagno sull'ongo sullo short ieri si sono salvato il culo mediando e quindi questa mega operazione dove hanno avuto a disposizione dei 20 e 30 punti lanciando la monetina col tasso se ne sono fatti 4-5 6 si sono chiuso un game se invece io attenzione aspetto il momento le cose mi sa ma appaiano a un certo punto lui che c'è qui ti dice staferlo faccio io e qui ti dice che ti accompagna un po' aspettare questa mezz'ora è cruciale ma non è cosa per chi invece pensa di perdersi l'affare del secolo risultato che siamo dove eravamo prima ma sempre così sempre è così a volte lo fa subito a volte lo fa dopo un po' ritorna da dove è partito perché ritorna da dove è partito perché il loro interesse non è la direzione in queste fasi qui la direzione loro la costruiscono nei momenti di calma il loro interesse è tutto quello che c'è a disposizione ordini short ordini long punto poi non c'hanno la targa io sono sciolto perché sono entrato long e c'è lo stop no 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 a loro l'interessa solamente chiudere le posizioni su ambe due lati gli avevamo parlato della distanza hanno usato la distanza hanno preso tutto quello che c'era a disposizione sopra e sotto noi preferiamo stare dove lui smette di andare a prendere i massimi i minimi e fa qualcosa vediamo oggi cosa combina qui perché questo sta diventando interessante ce lo siamo detto ieri sera se lui procede se lui costruisce di gezaghe long e ci tiene i prezzi alti fino a quando ci sono i volumi e tenete presente che oggi non ha nessun interesse la BCE oggi l'interesse sono le fine delle trimestrali di stasera e mi pare che c'è anche un dato interessante sugli USA oggi tra l'altro sull'abitazione degli Stati Uniti che è l'unico dato vero di ieri che è uscito fuori in quinta pagina di Wall Street Journal che c'è stato un sondaggio fra gli americani dove a differenza dei dati che pubblicano gli americani stanno dicendo sarà anche vero che le case non diminiscono il prezzo ma io la mia casa se non levo il 30% non la vendo e sappiamo che in America l'immobiliare è il prodotto più cartolarizzato sui fondi come un investimento che esista ok quindi occhio occhio perché qua non c'entra niente il tasso di interesse il tasso di interesse è solo una manovra di ritorno di 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 abbellimento del debito da vendere ok quindi la fed è costretta la mentalità se lo ripeto perché ha ancora forse ancora sono rimasti 200-250 miliardi di quell'aumento del tetto che era di mezzo di 500 miliardi ha il resto del mondo che è consapevole tranne i traders che l'America è fallita e che quindi l'unico modo per rendere appetibile il debito dato che comunque nonostante gli Stati Uniti siano un default dall'altra parte il dollare sommerge il mondo quindi dall'altra parte del pianeta non possono dire da oggi da domattina ok vabbè gli Stati Uniti sono falliti ci liberiamo del debito e i dollari facciamo come Pablo Escobar e li bruciamo in un cavino no perché sono gonfi di riserve di dollari ci vuole 10 anni per farle fuori infatti c'è la di dollarizzazione in corso per questo per cui cosa succede succede che io America ho questo vantaggio del fatto che ho sommerso il mondo dei dollari devo mettere nelle condizioni che ho dollari in mano di non avere convenienza a venderli quindi lo tengo molto basso in più devo avere dei tassi di interesse più alti sul pianeta nel mondo cosiddetto avanzato affinché se uno vuole comprare un debito e combattere l'inflazione per esempio o per avere anche un vantaggio devo comprarlo con lo Stato Unitense perché viaggia a un punto un punto e mezzo rispetto all'europeo quindi diventa conveniente comprare il debito il resto del mondo lo compra perché dice sì vabbè gli americani sono tecnicamente in default 38 trilioni di debito pubblico un terzo del primo inghiare sì gli americani sono fondamentalmente in default però però è comunque un'economia di riferimento quindi il fatto che il loro tirano le cuoia non è in agenda quindi possiamo prenderli un 5 e 50 interessi con il loro debito mi diventa conveniente perché non mi fanno lo scherzo brutto di mettermi dollari al massimo perché io posso avere il problema che se compro il debito il dollaro al massimo poi dopo loro mi fanno lo scherzo di buttarmi giù il dollaro e io perdo in valuta quello che ci guadagno comprando il debito si chiama vendere succede anche nella realtà di tutti i giorni che se io ho un'azienda la canna del gas e vado a un bank e sono disposto a pagare anche il 6% per lì avere un po' di debito sono disposto anche a pagare un tasso più alto perché sono totalmente ridotto male che non vado a vedere tanto a sottile cioè l'importante è che tu mi dai veri finanzi gli Stati Uniti hanno bisogno di essere finanziati perché hanno bisogno di essere finanziati perché vogliono reindustrializzarsi quindi reindustrializzarsi significa cambiare completamente corso della storia perché prima gli Stati Uniti lavoravano molto sul generare moneta col quale creavano il tenore di vita interno adesso hanno capito che il mondo è cambiato perché indipendentemente dalle barzellette che ci raccontano questo è già un mondo multipolare il 26 e il 28 oggi o domani verrà emessa la moneta BRICS in Sudafrica quindi quello che fino a due anni fa si pensava di essere impossibile dal punto di vista monetario è diventata realtà ci sarà una parte del mondo che commercerà con un'altra moneta che non è il dollaro anche il petrolio 3% del PIB mondiale non vuol dire si inizia da lì piano piano e poi diventerà quello che diventa più conveniente e verrà usato quindi se io il dollaro lo pompo sugli steroidi e lo faccio salire e dall'altra parte c'è una moneta di BRICS dove probabilmente faranno anche un po' di giochetti per tenere da conveniente per chi la usa il rischio di perdere di vantaggi competitivi sul mercato guarda caso gli arabi hanno detto che diminuiscono la produzione di petrolio temporaneamente per un mesetto e mezzo perché per loro 80 dollari è troppo quindi cosa mi conviene a me se sono Stati Uniti in questo caso mi conviene ricreare gli USA degli anni 30 un USA che va in fase protezionistica cosa vuol dire vuol dire che rientra della sua moneta che la usa non per inondare il mondo di moneta ma per industrializzarsi utilizzando due fattori uno è il dollaro decisamente basso rispetto alle altre monete sterline ed euro perché le industrie sono inglesi europee e serbano la seconda aumentando i tassi di interesse per avere credibilità all'estero ma usare questo debito di cui alzo il tetto per fare l'inflection che vorrebbe dire fiondare soldi a gratis sulle industrie non statunitensi che investono negli Stati Uniti è partita già la Mercedes faccio una bella lista ve l'ho mandata io sulla chat di industrie che hanno deciso di scegliere due stati e in questi due non c'è l'Europa l'industria europea uno è la Cina e uno sull'Istati Uniti pertanto il discorso adesso è questo se vogliamo parlare di fondamentali non c'entra niente l'inflazione l'inflazione è una conseguenza di scarsità da risorse perché scarsità da risorse noi abbiamo deciso di fare a meno di determinate risorse ed è chiaro che tutto il processo di intermediazione di logistica per avere queste risorse invece di essere su un tubo che arrivava diretto a casa nostra deve fare il giro di mezzo mondo e questo costa e qui si crea l'inflazione ieri Powell mentendo come giura ha detto che l'obiettivo dell'inflazione del 2% degli Stati Uniti è lontano non è vero è molto vicino secondo i dati che ci sono però loro non possono diminuire i tassi c'è un'altra ragione non c'entra niente l'inflazione quindi si inizia a ragionare così mi rendo conto mi rendo conto e queste dinamiche sono dinamiche di un'ottica decennale per pensare che BlackRock Vanguard Statsby e tutto quello che li gira intorno sui mercati finanziari decidono di vendere tutto domani ieri per uno 0,25% in più di tassi vuol dire veramente drogarsi ma di una droga veramente pesante non prenderanno ma la decisione del genere solo perché questo aumenta i tassi dello 0,25% la prenderanno semmai per un discorso più generale che è partito dal 2008 e non c'entra niente con la politica monetaria c'entra con una situazione finanziaria dove io devo trasferire quello che ho che non è più buono o che perlomeno è sovravalutato sui retail e lo faccio facendo colpi di massimi uno dietro l'altro anche senza un motivo apparente perché devo far vedere che il mercato azionario guadagna più di ogni altra cosa ed è un modo migliore per proteggersi dall'inflazione cosa può succedere adesso e adesso secondo me inizia un momento buono serio per andarsi a prendere un po' di decisioni e di andare ad osservare la cosa con un occhio un po' diverso da come l'abbiamo osservato fino a ieri di prendersi un bel grafico daily ed iniziare a ragionarlo come se fosse un 5 minuti perché il ragazzino qua ci ha piantato una doji la terza sui massimi e ha deciso di fare il massimo assoluto di periodo dal mercato chiuso stanotte cosa sono tutte queste doji queste doji sono tutte vendite ogni volta che lui raggiunge un pezzo massimo trova l'occasione per tirare giù una scarica proprio al badile di spazzatura azionaria sui fondi con investimento ultraliquidi dei nostri soldi che noi abbiamo deciso furbamente di trasferire dalla banca assicurata sui fondi comuni di investimento non assicurati vediamolo graficamente sapevamo che manca il test sapevamo che questa congestione poteva essere gestita ci sono i video di ultime settimane che lo dicono in due maniere diverse la prima fa tre candele di uscita uno due tre e testa quindi long solido la seconda inizia a fare massimi ripetuti almeno tre oltre la congestione con i vari ritrattamenti uno primo ritrattamento due stanotte tre per generare cosa una contro bandierina un lento quasi fastidioso long a qualsiasi cioè la gente ieri si aspettava lo sort il fatto che stamani si sveglia che se lo trova sul massimo assoluto di periodo dice ok questo non scende più si deve insediare nel cervello dei retail questa convinzione l'unico modo per farlo non è fare sparate di candele verdi di un chilometro è fare come fanno con la pubblicità ripetizione a ogni aspettativa short te la nego ti faccio un massimo lento a me appare visivamente come un mega long ma poi alla fine io sto macinando lo stesso pezzo più volte però ti do il massimo di periodo per farti pensare che sono salito tantissimo e non ci sono storie io salgo puoi prendere short da un anno e mezzo quanto ti pare io salgo la resa sembra quasi vicina di short perché perché da ieri d'altro sono iniziati tutti ieri gli ordini che sono stati creati per salire sono tutti tentativi di longers perché questi ormai iniziano a prendere durante la giornata longers vedono segnali dove non ci sono per entrare long il neotecnico della mente umana si è orientato verso un messaggio che loro hanno abilmente dato per sei mesi noi cosa facciamo quando vediamo tre doci così iniziamo a vedere se ci fa dei segnali daily qui ci vuole adesso è un bel segnale daily andiamo a puntare al test sulla congestione può essere failure o no non ne abbiamo idea ma sappiamo benissimo che quando lavora la congestione in una situazione tale per cui allunga la prima uscita oltremodo ci sono buone probabilità che sia di attraversamento quando avverrà questo non si sa più dura questa procedura più la spazzatura è tanta e poi ce lo farà sapere lui come ha fatto ieri il soldato ci dirà fermo devo lavorare stacando fidati che il segnale te lo do intanto ti do due o tre messaggini messi in croce che a ogni sparata long io rischio di bloccarmi docine perché uso questi questi contratti sui massimi per vendere quindi fly down che qua c'è da lavorare guardate come sta sparando long adesso è bellissimo ragazzi quante volte sto dicendo che adoro le mani forti bandierina sparata long il cluster non ce l'ha violentato e quindi è bene che se lo tenga da parte questo qua ci va bene ok questo è quello che vediamo tra poco chiude anche la settimana vediamo la chiusura di questa settimana sappiamo che c'è questa doce che è interessante da raggiungere lui può andare long oltre misure ragazzi lui può farsi 4.630 4.700 anche fare il massimo assoluto di sempre io con tre doce aspetto solo il segnale short ok ricordiamoci che siamo in un ipotetico swing finale long di una 3d range mensile che può durare fino a tutto il 2024 ok questo è qua DAX e DAX si chiama il medium virtual star cioè io mentre quell'altro fa i lavoretti che il DAX aveva già lungamente fatto in precedenza facendo i massimi assoluti se l'aspetta tranquillo in zona cosa fa? fa gli spuffettini short sulle congestioni intrappola un po' di sciottarelli convinti che questa cosa produca lo short del secolo guarda caso col dato vediamo cosa fa con la BC adesso questa candela è importante molto importante quella di ieri del DAX perché? perché noi abbiamo una controbandierina con una trend line con un tentativo ieri di rottura short è una congestione ed è molto propedeutica visto che inizia a fare un doppio minimo per vederlo si spera con oggi così per poi essere riattraversata short sul doppio minimo quindi anche lui sta maturando delle cose mi manca l'ultima barra di volumi ma oggi ce la dice se me li fa sui massimi di prezzo il gioco torna una due tre in un processo distributivo può essere interessante il fatto che lui sui massimi di periodo cerchi di volumi deve utilizzare i dati ok? però attenzione che questa controbandierina sta iniziando a funzionare a un massimo a due massimi oggi vogliamo il terzo e allora è in combinazione con l'SP500 e le angure stanno iniziando a maturare occhio a raccogliere le acerbe ok? perché non è innanzitutto non è nemmeno detto che scenderà e secondo di poi adesso non ha segnali short questo cosa può essere un treno short sicuramente sì sicuramente sì è da prendere secondo me no perché non è da prendere perché innanzitutto lo stop loss è la candela più lunga di periodo quindi rischio di entrare in un qualcosa con lo stop loss molto lungo secondo di poi raramente io entro in rotture di doppio minimo immediati perché possono essere dei punti dove rimbalza facile e non mi dà nemmeno la possibilità chiudendomi sopra il doppio minimo quindi questa congestione fa una falsa rottura short che sarebbe la prima e me la ritrovo poi lunga dall'altra parte quindi come la lavoro questa congestione daily del DAX se volessi fare multi-day sto parlando la lavoro aspettando la prima uscita mi auguro che sia logica e che mi piacerebbe prendere uno short se short farò un ragionamento diverso quindi la prima uscita da questa congestione sarà e questa non è un'uscita ragazzi questa è la candela numero 4 sarà quella che mi darà un messaggio dopo abbastanza chiaro su quello che le sue intenzioni sì ma Simone mi tocca aspettare una settimana vabbè perché avete degli impegni agosto è uno dei migliori mesi dell'anno per far trading mi sa che lui ce lo stia già dicendo altre cose vediamo l'intraday del DAX se ci interessa se c'ha un senso perché dovrebbe essere simile a quello dell'SP con gli ordini costruiti come l'SP a che ora è l'ABC ma sì vabbè sull'euro ci sta che qualcosa veramente conviene però sugli indici secondo me è molto meglio andare a vedere cosa succede dopo la conferenza della stampa della Lagarde non la guardano nemmeno sui parenti quindi non contattare allora vediamo un attimo sì una procedura di ordine decentemente buona questa qua al momento stanno lavorando fra poco apre su una bandierina di prosecuzione longa che ha rotto vediamo vediamo qua sopra c'è da prendere roba vediamo cosa fa per primo sempre il solito discorso questo è tutta roba buona ragazzi vediamo se lo fa prendendo prima partendo short o se questi ordini qui li finisce perché ora ci siamo vicini quindi tutto il percorso per andargli a prendere l'ha costruito c'è altro no a posto qua e questo ancora è da fare sì dove sono i cluster del DAX andiamo a vedere se sopra ci sono lui è un cluster candelette così mi somiglia molto a quello di ieri vediamo sotto lui lui è un po' meno ma vabbè ci basta questo tanto più o meno allo stesso livello sì questo lo possiamo attendere un cluster tutti rotti solo sopra questo no questo è stato già lavorato ok ce li abbiamo quindi vedete può avere lo stesso interesse a prendere prima sopra questi o prima sotto questi vediamo chi di due avrà la precedenza la chiudo qui e vi saluto e buona giornata occhi sulla palla mai durante il dato se mai dopo ciao ah no sto facendo devo interrompere la registrazione a